Ciao ragazzi, oggi torno con un nuovo video di impacco per i capelli e questa volta è un impacco con le carote quindi fate bollire due carote e quando sono belle morbide schiacciate con una forchetta poi dopo io l'ho messa nel frullatore ma fate un po' come volete poi aggiungo un cucchiaio di maschera per capelli questa qua è all'olio d'olive è molto buona anzi ho messo due cucchiai poi mescolate bene dopo ho messo nel frullatore, ho fatto frullare è diventata così ho messo anche un goccino di olio di argan adesso andremo a mettere sui capelli io ho messo dappertutto anche sulle radici dalle punte alle radici tanto non lascia i capelli grassi e ho messo nei capelli asciutti dopo ho lavati col shampoo e ho passato ancora un po' di balsamo ma il risultato è molto molto bello lascio i capelli lucidi, belli e idratati quindi dopo aver messo su tutti i capelli ho lasciato agire per 40 minuti e dopo ho lavati avevo legati così fa un po' di casino ma ne vale la pena e dopo il risultato finale è così io spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video iscriviti al canale